E' la primavera dei restauri per Ercolano. Con l'iniziativa Close-up Restauri a Porti Aperte, ogni venerdì mattina dalle 11 alle 12 i visitatori della città antica potranno accedere ai cantieri di restauro in corso, nell'area archeologica, nell'ambito delle campagne di manutenzione sia programmata che straordinaria, e parlare con i conservatori per scoprire il loro lavoro. La partenza è stata la visita del cantiere della sete degli Augustali e il restauro dei mosaici della casa dell'albergo. Per noi è importantissima la partecipazione, vogliamo che il nostro pubblico si renda conto del valore inestimabile di questi nostri beni e soprattutto di quanta cura, quanto studio questi richiedano. Sono momenti di conoscenza per tutti, sia per gli operatori sia per il pubblico. In questi momenti veramente lo scavo ritorna ad essere il laboratorio aperto che in fondo è sempre stato fin dal Settecento. Noi abbiamo un programma, invitiamo tutti a seguirci sui nostri social. Ogni venerdì ci saranno dei nuovi restauri da poter visionare e ora per le prime due settimane siamo dedicati alla zona della casa dell'albergo, casa d'argo e il saccello degli Augustali. Nella casa dell'albergo c'era la problematica di un mosaico che comunque in anni passati era stato già staccato e riallettato comunque su una malta base di cemento, cioè una malta cementizia che quindi non aveva molta compatibilità con gli strati originali del mosaico. Quindi più che andare a consolidare, quindi ad iniettare delle sostanze comunque per cercare di consolidarlo si è preferito. Quindi staccarlo, cioè staccarlo quindi da terra, da questo massetto comunque di ancoraggio in cemento e quindi poi andare a ripulire lavorando dal retro delle tessere, andare a ripulire tutte queste sostanze cementizie. Diciamo che le fasi sono state quelle di prima realizzare comunque un plastico, un grafico che andasse comunque a coprire tutta quanta la superficie del mosaico e per comunque avere delle basi grafiche che ci permettessero poi di andare a segnare quelli che erano stati tagli antichi, che erano stati fatti sul mosaico. Si è poi proceduto con la stesura comunque su tutto quanto il mosaico di una velinatura, di una doppia velinatura stesa comunque con delle colle naturali, delle colle animali naturali e che quindi ci permetteranno poi in un secondo momento, dopo la riapplicazione comunque in situ, su un massetto questa volta compatibile e con dei materiali comunque idonei, di poterlo rimuovere semplicemente con acqua calda e quindi avere veramente un impatto minimo sull'opera. Adesso ci troviamo nel stacello, quindi nella cella che custodiva anche la statua dell'imperatura. Sostanzialmente il nostro intervento è stato quello di una messa in sicurezza della pulitura delle superfici che nascondevano questi affreschi sotto strati di polvere, di guano, di piccione e quindi il nostro intervento si è svolto su due linee parallele. Da un lato quindi la pulitura delle superfici, dall'altro pulitura delle superfici fatte a secco con dei pennelli comunque e poi un trattamento comunque biocida sulle zone che erano interessate da questo guano e poi una pulitura di queste con dei lavaggi con acqua deionizzata e un tensio attivo, una sorta di sapone che comunque andasse a ripulire la superficie. Dall'altro lato invece ci sono stati fatti, ci sono resi comunque necessari dei consolidamenti dell'intonaco, sia tra intonachino e intonaco, sia tra l'intonaco e il supporto murale comunque.